Quattro, cinque, ciak, sei, ciak, sette, otto, nove, dieci, undici, stodici, tredici, stodici, 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 ooooh sì! Sistema un filo, sentilo anche, da l'altra parte, da l'altra, ok, nove, dieci, forso per il tempo a più di School Master Max, in al DJ! Vai, due, tre, quattro, sei, sette, un saluto ai Cavalaro Bravers, Kaya Music, Italian House, Remix di Move, Adam Port, stai su ancora un po', uno, prima l'abbiamo tolto, subito dopo sedici, questo, puoi stare su anche a trentadue, pronto, adesso lo togliamo, nove, dieci, undici, dodici, ooooh! Sì! Ivan DJ, corso Ivan DJ, poca di School Master Max, ci siamo!